Maria è stata molto vicina, mi guardava, mi ascoltava, ha una grandissima capacità di ascolto e di osservazione. Più un essere umano è complesso, è un po' rotto e più lei è lì vicina a cercare di darti gli strumenti. Per me questo ha un valore enorme perché se faccio oggi il mio lavoro con questa libertà è grazie ad amici, grazie a questo palco che mi ha dato la possibilità di crescere e di diventare una donna. E di ricomporre, mi hai detto che eri rotta. Ero un po' rotta, però oggi sono un po' matta.